accade una cosa strana in irpinia tutti i comuni avanzano sono proiettati verso lo sviluppo vedete che cosa accade a sant'angelo i lombardi con la nutella verde green come si dice con lo sviluppo dell'occupazione con il discorso delle zone interne che si riapre vedete nella valle dell'ufita che cosa sta avvenendo un vero e proprio terremoto di sviluppo e i sindaci sono in primo piano sono i conduttori di questo processo di sviluppo purtroppo Avellino muore rispetto a questo è indietro ho scritto nel corriere dell'irpinia che vi prego di acquistare domani nell'edicole insieme alle dimissioni dell'assessore che purtroppo avevamo in esclusiva data la notizia voci smentiti poi alla verità l'avevamo in tasca e l'abbiamo data insomma Avellino sta morendo qualcosa bisogna pur fare c'è quest'aria sospesa ora accade qualcosa ora c'è un terremoto ora ci sono gli indagati altri indagati altri filoni d'inchiesta non a caso il corriere dell'irpinia titola è un bozzo senza fondo insomma bisogna vedere che cosa insomma una rivolta morale nei confronti di quello che accade ad Avellino sollecitata dalle forze politiche sollecitata dai sindacati sollecitati da quella borghesia che si è ritirata indietro perché non possiamo vedere morire Avellino sotto gli occhi così senza buona volontà senza un minimo di ottimismo eravamo la capitale della della provincia come città oggi siamo ridotti a fanalino di coda nello sviluppo nella moralità nelle cose che ci riguardano povera Avellino